Nella prestigiosa sede dell'AICIG a Roma, in via 20 settembre, siamo oggi in compagnia del presidente per parlare di un prodotto davvero di eccellenza. La stagione questa comincia a settembre e arriva fino alla più tardiva a novembre inoltrato. Presidente, allora intanto come avete selezionato quest'ospite? Questo è uno dei nostri tanti consorsi soci e mi dispiace per i telespettatori che non possono sentire il profumo di queste pesche che è veramente inebriante. Sono delle pesche sapidissime, molto buone, tardive come si diceva, che sono un po' un vero fiore all'occhiello del nostro patrimonio dei prodotti certificati. Vengono dalla Sicilia, una terra baciata dal sole, dalla luce e veramente sono un prodotto di grande sapidità, molto buono e chiaramente chi le può assaggiare lo faccia nel più breve tempo possibile. Ecco, Presidente, un prodotto tipicamente gustoso che raccoglie in sé nel suo nettare proprio le tipicità di questa terra, la Sicilia, poi la provincia di Enna. C'è molto entroterra qui, ecco. Mi spiega a che cosa servono questi sacchetti? Questi sacchetti servono per, diciamo, insacchettare i frutti in un certo periodo dell'anno, in particolare a giugno, per evitare che un insetto, la cosiddetta mosca mediterranea, faccia i suoi danni ai suoi buchi e si goda lui, diciamo, la bontà di queste pesche. Quindi vengono insacchettate una ad una e quindi questo significa che non vengono usati antiparassitari perché è il sacchetto che ripara non solo da questo insetto ma anche da tante altre malattie, soprattutto anche dall'acqua, che chiaramente potrebbe generare e creare dei problemi alle pesche. Quindi salubrità e qualità. Ecco, infatti questi sono due elementi fondamentali. Il consorzio invece che caratteristiche ha rispetto agli altri, magari più grandi, di cui vediamo anche testimonianza all'interno di questa sala. È un consorzio che rappresenta un prodotto che ha una produzione, rispetto a tante, parzialmente limitata. Quindi che caratteristiche ha questo consorzio? Caratteristiche che mai come in questo caso, stiamo parlando di un prodotto che produce circa una zona che produce 400 tonnellate di prodotto, ma la cosa più importante del consorzio è che il consorzio dà la garanzia della certificazione di questo prodotto, quindi l'origine, la qualità e soprattutto, diciamo, ha la possibilità di, attraverso il consorzio, questo prodotto di essere promozionato e valorizzato in tutto il mondo. Perché questo prodotto, oltre che ad essere venduto in Italia, ormai comincia ad essere venduto in tante altre parti del mondo, in Europa, in Medio Oriente. Il nostro presidente della pesca di Leonforte ci ha raccontato che ormai sono a Dubai e sono in tante parti del mondo e quindi questo ci fa piacere perché la sigla IGP in questo caso è la garanzia, la certezza che questi prodotti sono dei prodotti originali, i prodotti certificati e, ripeto, ci tengo sempre a sottolinearlo, da organismi terzi, non dal consorzio, che potrebbe essere parte cointeressata. Quindi c'è veramente tutti questi elementi plus, cioè degli elementi di più che il consumatore deve e può apprezzare. Presidente, noi la ringraziamo. È sicuramente un prodotto, come lei ha detto bene all'inizio, da gustare e questo è proprio il periodo esatto.